La settimana del diritto alla famiglia è quella che stiamo vivendo, lo abbiamo seguito attraverso i nostri notiziari e sarà il tema di discussione dell'appuntamento di Parliamone Noi da voi, non da questa sera alle 21 con ospiti, siamo ospiti del progetto Famiglia nella sede di Angri ne dibatteremo e tratteremo l'argomento sotto varie sfaccettature, il diritto alla famiglia, il diritto a crescere in famiglia dei minori, il diritto alla vita non mancate a questo appuntamento che è davvero particolare e che aprirà sicuramente in tutti voi un'ampia riflessione, vi aspettiamo Grazie a tutti